Buongiorno ragazzi qui è BAST e oggi siamo ritornati qui sul campo da calcio, incredibilmente per fare la compagnia di questi andremo a fare questa simpatica challenge cercando di non tirare la palla nell'altro campo perché sarà difficile Io ce la tiro, io ce la tiro Sarà difficile, comunque vediamo bene e partiamo con il video, via Partiamo signori con Vez, vediamo un po' la two touch, vediamo se riesce a stoppare Tino di Vez, è ok, ok, gol nell'altra porta, molto bene, molto bene, partiamo subito benissimo Rampi, prova la rovetta, eccolo, beh 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 Vediamo dopo un inizio un po' strano, se Decio con la sua forza fisica Dice così, vieni vieni Decio vieni fatti vedere, ok grande Decio saluta Adriano signori, il numero 10 dell'Inter dei tempi d'oro, attenzione, Adriano fuori fuori non vale, non vale, non vale, non vale, non vale, non vale Coglione! Ale Godena, il fratello di Samu, prova, si dispera il povero ragazzo franco marocchino anche lui, dell'hamburger Questo è un fuori classe, il numero 31, con la maglietta gialla, come il Chievo, incredibile signori Lui può fare anche 18 tocchi, lui può fare quello che vuole, attenzione, l'aggancio, eh sì, un grande aggancio da foca spiaggiata, una roba bellissima Attenzione al mammifero Vez che aggancia con le sue lunghe leve Vez si riscatta Porco di Attenzione, oh, eh, trotta di nuovo colpito, la trotta, attenzione ancora, l'aggancio, vediamo se riesce a fare qualcosa di ester L'hamburger, vediamo se aggancia, l'aggancio il tiro Si riscatta il portiere, secondo tiro, l'aggancio, è il destro, eh, campetto Coglione! Attenzione, nuovi signori, parte drop, nuovi, l'aggancio, si testa, come una foca, uh Attenzione, Vez che prova a ghanciarla con il destro, eccolo! Giaccherino Il destro lo piazza! Lolo, il cross, attenzione, l'aggancio, ma questa lontanese, no! Cibola come un torero, sotto la coppa! Cos'è successo? Eh, nel risultato sono un po' troppo euforica Le ginocchia si sono sbucciate Attenzione, Adriano, l'aggancio, tiro! Prova l'aggancio, vediamo, come un mammifero L'aggancio esce dall'inquadratura e, purtroppo, muore così Vai! Morris! È un criminale! E infatti è stato in galera due volte Attenzione, vediamo un po', vuole fare la rovesciata Vediamo! Eccolo! E te la sei riazzata? C'è le saponette sui piedi Vezze! Attenzione, Vezze! Proviamo a invocare Costa Ferreira Pino Attenzione, ritorno L'aggancio... Eccolo! Niente, non è giornata Per la patria, Pili L'aggancio Eccolo! E si vede che c'è comunque il talento latino E le bestemmie italiane vente Ultimo tentativo Vediamo Cosa fa Novi Ma perché no? Non ce la fa a concretizzare Vezze! Vezze è tutto Se hai visto vi è piaciuto Il gol a testa No, te non l'hai fatto No, io ho preso Traversa E te cos'hai fatto? Brutamente Sei il granulato Vezze! Vezze! Comunque il video te la veniva qui Lasciate un like, un commento Passate da Instagram, Facebook, Snapchat Staminchia Saluti, ciao! Ciao!